Bene ragazzi, benvenuti in questo nuovo episodio fantastico da Jurassicraft In questo episodio vi farò vedere qualcosa di veramente, veramente figo raga Quindi mi raccomando, lasciate tantissimi mi piace Vediamo se per questo episodio da Jurassicraft riusciamo ad arrivare a 5.000 mi piace Lo so che 5 più 5 fa 10, però 5.000 mi piace Facciamo 3 più 2, dai mi piace così 5.000 mi piace, conto su di voi Spingete bene il puzzantino e fai con la sigla Bella ragazzi, benvenuti finalmente in questa nuova puntata da Jurassicraft Siamo finalmente nel mondo e raga, raga, raga Ci stanno un sacco di cose che vi devo dire Un sacco di cose che devo farvi vedere assolutamente Quindi pronti con il mi piace raga Perché veramente questa puntata sarà una forse delle puntate più belle della Jurassicraft Allora, nella scorsa puntata che non c'è stata Che doveva essere sabato Ho fatto un po' di cose Perché non c'è stata? Perché mi sono reso conto di Non essere neanche, diciamo, alla metà dei lavori Di un progetto che sto facendo all'interno da Jurassicraft Che ho finito ovviamente per questo video Perché altrimenti non ve l'avrei nepportato Ecco, perché volevo farvelo Volevo portarlo finito, punto e basta E quindi sabato non sono riuscito a finirlo E ho detto no Mi sto impicciando con le parole Ma faccio finta di aver ripetuto apposta la stessa sillaba Anche se non è vero Ho detto no, cavolo, raga Cioè, dobbiamo per forza portare questo video completo E quindi, raga, siamo pronti Allora, ho aggiunto la mod Tanto si desiderata Che non ricordo bene ora come si chiama Ma è la mod praticamente quella che aggiunge un sacco di cose La Decocraft, mi sembra Può essere la Decocraft, sì Molto probabile Come funziona la Decocraft La Decocraft praticamente si basa attorno a questo tavolo qui Ok, questo tavolo con infiniti oggetti decorativi Come funziona questa mod Come vedete in questo tavolo da lavoro, diciamo Ci sono tre, anzi quattro barre che si possono caricare La prima è questa qui, la barra della clay C'è un cesto, come vedete E c'è un po' di clay 2947 su 6000 Poi ci sono altre tre barre Una rossa, una verde e una blu Che sono rispettivamente il colorante rosso, il colorante verde e il colorante blu Non proprio il colorante, diciamo, colorante di Minecraft Ma bensì il colorante della mod Come si fa il colorante della mod? Ve lo faccio vedere qui Allora, eccolo qua Il Red Crafting Clay Il Blue Crafting Clay E il Green Crafting Clay Diciamo che il crafting non è molto dispendioso Un pezzo di terra Un pezzo di sabbia Un colorante, insomma, è tenuto addirittura a quattro Noi cosa facciamo? Le andiamo a mettere qua, in questo angolino qui E automaticamente si vanno a riempire le varie barre Cose complicate che comunque non vi faccio vedere perché sono un po' stupide e blande Ho ricaricato appunto un po' i colori E adesso che possiamo fare? Ci sono miliardi e miliardi di oggetti Che noi possiamo scegliere di prendere Ad esempio, voglio prendere, raga, non so Una tazzina di caffè, ok? Premiamo Shift per le informazioni E mi dice che questa tazzina di caffè Costa tre pezzi di clay Un pezzo di rosso Un pezzo di verde E un pezzo di blu Noi ci clicchiamo Ci scala automaticamente tutti quanti i pezzi qua E andiamo a prenderci la nostra tazzina di caffè Che raga Ora perché è piccola e quindi costava poco Però insomma è simpatica da avere qui Eccola È carina e non è molto ingombrante e cose varie Però comunque possiamo craftare cose eccezionalmente fighe Come ad esempio, non lo so Prendiamo una cosa a caso Tanto non so se ci serve Ecco, il basketball canestro Il canestro di basket Ci lo prendiamo Ci lo mettiamo qua E possiamo prenderlo al muro, raga Che vuol dire che cacchio ci fai con un canestro di basket? Niente Lo metti qua e se ci vuoi ci schiacci, capito? Però è figo È figo, raga Ci sono tantissimissimissime cose C'è tipo infinite cose Che puoi fare Anche il livello di arredamento Candele, letti, mobili Cose sulla scienza È veramente fantastico Ed è grazie a questa mod Che sto andato a creare la nuova gabbia Per i velociraptor Ebbene sì, raga Perché abbiamo ben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 uova di velociraptor Ma udite, udite La cosa bella è che 4 di queste uova E 4 del Cioè, 4 e 4 Di queste uova Sono Ok, forse se ve lo spiego così Non lo capirete mai Comunque, di queste 8 uova La metà sono maschi La metà sono femmine Giustamente Però La metà E la metà Quindi 2 maschi e 2 femmine E 2 maschi e 2 femmine Sono di gruppi generici diversi Sono cose che non abbiamo mai provato Ho fatto caso anche nel video con voi Che ci sono dei gruppi generici diversi Dov'è, 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 dov'è No, l'ho rimesso a posto Mi pare, sì Velociraptor E c'è un altro No, velociraptor Eccolo qua Come vedete Questi 200% di velociraptor Uno ha Genetics code A, C, G, T, G, G, G E quest'altro invece ha A, C, T, T, C, C A, C, T Sono Codici generici diversi Ehm Andiamo a provare insieme Che cosa succede Magari si riescono a colpire i dinosauri Ancora non si sa Ancora non ho Non ho sperimentato una cosa del genere E quindi è arrivato il momento Di prendere queste 8 uova Di velociraptor E di andarle a Schiuter A farle schiutere Ecco Nella nuova gabbia Nuova gabbia Che raga Io spero veramente vi piaccia Perché ci ho messo Veramente Tantissimo Tantissimo tempo Eccola qui La nuova gabbia Si vede qui Dalla lontananza Diciamo Da questa Da questa zona Ma diciamo Non si è caricata tutta Ecco infatti raga Con la nuova mod Abbiamo fatto qualcosa Che dico di epico raga Veramente di Fantastico Cioè io penso Sia una delle migliori gabbie Che sia venuta all'interno Della Jurassic Insieme a questa qui Del tirannosauri Che è davvero fantastico Innanzitutto adesso Facciamo un tour Della gabbia generale Raga Veramente La c'è tantissimo piace Perché Non immaginate il lavoro Che c'è dietro A questa gabbia Allora Qui c'è una specie di parcheggio Che la nostra vettura Si Non possiamo entrare Fino a qui Però E' abbastanza carino Il parcheggio Perché possiamo Aspettate Non voglio spawnare Un velociraptor a caso Quindi Entriamo con la mano libera Come vedete qua Si può parcheggiare In retromarcia Ecco si entra in retromarcia Oppure anche In marcia in avanti Si scende E ci troviamo Praticamente All'interno Della gabbia Dei velociraptor Che succede? Qui c'è una porta Andiamo a vedere Tra poco Mentre di qua C'è un'altra porta Questa è la porta Che ci porta Che batto Bravo È una porta Che ci porta Ho spudato Ragazzi Calmi È l'emozione È l'emozione È una porta Che ci porta A un'altra porta Doppia sicura di porta Quante porte Sto dicendo porte Porta 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 Comunque stavo dicendo C'è una doppia sicurezza Con le iron doors Appunto Per far sì Che non ci siano Inconvenienti Come apre la porta Io adesso Scappa a veloci Raptor In modo che abbiamo Una doppia sicura E quindi possiamo Gestire al meglio Questa zona Prima di farvi vedere Il recinto vero e proprio Dall'interno Voglio farvi vedere Da sopra Perché Qui c'è una zona Molto molto figa Fatta tutta quanta Con i nuovi blocchi Molto molto belli C'è Diciamo un recinto Fatto di Di catene Qui non Di catene Di chain Non so come si chiama Chain Di maglia Come si chiama Questo Fil di ferro Ecco Si sale questa bellissima Scala di quarto Di acciaio C'è un telescopio Inutile Fatto solamente Per bellezza Qui c'è una porta Che andiamo a vedere Dove ci porta Quella porta E poi qua C'è la zona Del guardiano Raga Ho potuto fare Questa zona Veramente Veramente Fantastica C'è un computer Che è fatto Veramente benissimo Raga guardate Ha alimentatore Da 100 watt Scheda madre Scheda video Il processore Con il cosino Della intel Tutti gli altri È fatto Benissimo Il computer C'è di tantissimi Colori anche L'ho scelto rosso Perché comunque Era carino Poi abbiamo Qui una scrivania Fatta da due scrivanie Una messa così E l'altra per l'altro verso Tre schermi Per monitorare Questa è un'immagine Messa a caso Infatti sono tipo Iasi Perché iasi Non lo so Comunque messa Diciamo a caso Dalla mod Tre schermi Fantastici La tastiera Il mouse La sedia Possiamo anche Sederci qui Far finta di stare Al computer A monitorare La gabbia Di veloci raptor E poi ci sono Questi scaffali Qui c'è un fighissimo Telefono per mandare Le comunicazioni Ed è una cosa Fighissima Secondo me In più c'è una Risma di fogli E qua c'è una Una cassaforte Un baule Protetto Potentissimamente Super blindato Che ci permetterà Di mettere delle cose Diciamo utili Ecco possiamo dire Poi di qua C'è la campanella No raga Non ci credo Che figata Avete sentito Non lo sapevo Se io lo premo Mi fa il rumore Cioè io l'ho solamente Messo qui Non c'ho mai Non c'ho mai cliccato Col tasto destro Come ho fatto adesso Vabbè che figata Abbiamo scoperto Una cosa nuova insieme Evviva Questa comunque La gabbia di velociraptor Adesso arriva La parte bella Allora qua si esce E c'è praticamente A parte il fil di ferro Il filo spinato Qua sopra Il filo spinato Davvero davvero figo Secondo me E molto molto Adatto ecco A una gabbia come quella Di velociraptor Che dovrebbe essere Di non sapere Che provano a scavalcare A saltare Cosa c'è di bello In questa gabbia C'è questo piccolo Questa piccola zona Esterna Questo piccolo pontile Esterno Che ci porta Ecco Oggi la prova porta Raga E sta superando Il limite Dell'incredibile Il primo che mi conta Tutte le porte Che dico nel video Vince Un bacino E un cuoricino Sul commento Allora Stavo dicendo Questa zona esterna Ci fa arrivare Raga Guardate che cavolo Di figata È questa parte È praticamente Un ponte Sospeso nell'aria Come tra l'altro Molti di voi Già mi hanno consigliato Di fare Anche prima Della giunta Della decocraft Raga È qualcosa di spettacolare C'è un ponte Sospeso nel nulla Ed è davvero Fighissimo Che ci porta Da una parte All'altra Della gabbia E questo raga Secondo me È qualcosa Che dico di fantastico Di più È davvero spettacolare Cioè È veramente Fighissimo Se scendiamo Nella gabbia Ho ricercato Di ricreare Un ambiente Dove i velociraptor Non possono scappare Non possono saltare Tantissimo Senza alberi Non soffogamenti E cose varie Qui c'è una zona Dove l'erba È un pochino alta Con dei teschi Di Teschi di Di mucche Sì sono teschi Questi qua Di bufali Ecco Che ci sono anche Nei deserti Nelle savane Sono fighissimi Questi secondo me Rendono un po' Quella idea creepy Della gabbia Di velociraptor Sono un pochino Sparsi per la gabbia Qui c'è un feeder Che è ancora rigorosamente Vuoto Mettiamoci No niente Poi ce li andiamo a mettere Dopo mentre andiamo a fare La strage Dei maiali C'è un altro Vabbè Altri teschi qua Qui c'è il laghetto D'acqua Altri teschi Un altro feeder Qui E c'è un altro feeder Qui sopra la collinetta Vicino alla zona del guardiano Che raga Io amo tantissimo Questa zona Secondo me Veramente Veramente Fantastica Immaginate Quanto io ci abbia messo A fare una cosa del genere Più che altro Tutto l'impegno E tutto quanto il tempo È per fare Questo recinto Intorno Perché Piazzare i blocchi Della decocraft Raga Non è affatto Semplice Hanno tutti quanti Un verso loro particolare Che si metti Stortis E li mettono Arcon Mamma Lasciamo stare Lasciamo stare E la cosa Veramente Veramente figa È questa Ci sono due caverne Due cavernetane Che sono praticamente Eccole qua Ci sono Identificabili Da queste torce tichi Messe all'ingresso Con altri teschi Ovviamente Qui ho messo anche Una stalagmite Di Anzi una stalagmite Scusate Di ghiaccio Molto molto bella Qui è una zona Appunto di Per dormire Insomma Per i veloci raptor È una piccola caverna Molto molto utile E in più Ce n'è anche Un'altra di caverna Che è precisamente Della parte opposta Della mappa Della gabbia Cioè questa qui Sono abbastanza simili Forse questa è un pochino Più larga Un pochino meglio strutturata Perché vedete Scende con le slab Mentre là È tutto quanto più robusta E più naturale Ecco qui sembra Molto più artificiale Però mi è venuta in mente Un'idea Non so Magari fatemelo sapere Nei commenti Ma secondo me potrebbe essere figa L'idea di unire le due caverne Con un corridoio E una caverna enorme Sotterranea In modo che i veloci raptor Possano anche stare In una zona Sotterranea Che parte da qui Da questa entrata E arriva tutta quanta Percorrendo sotto la collina Creando un percorso sotto la collina Fino a quest'altra caverna Secondo me sarebbe una cosa Veramente Veramente figa Fatemi sapere Cosa ne sapete Cosa ne pensate voi Nei commenti ovviamente E questa raga Era la gabbia Dei veloci raptor Spero possa essere una gabbia Veramente funzionale Più che bella esteticamente Anche bella esteticamente Perché comunque raga Ci stiamo rendendo conto Sia io che voi Che è arrivato finalmente Il momento di espandersi Perché le piccole gabbie Non bastano più Anzi Spero che gli otto veloci raptor Che andiamo a mettere qui Vadano bene Insomma otto Penso che qua ci stanno Veramente abbastanza larghi Ecco Ecco Fatemi sapere anche nei commenti Se volete che La veloci raptor mamma Quella grande La mettiamo All'interno di questa gabbia Io direi anche si Ovviamente Però non so se Inserirla adesso Che Spaurando ovviamente Le uova di veloci raptor Ci sono i cucciolini Di veloci raptor Lei bella grossa Secondo me potrebbero Resterci dei problemi Non Non so Ovviamente non lo so Sto sparando una cosa a caso Anche perché Non so se sia possibile O qualcosa del genere Ma Se ci ricordiamo che Probabilmente La veloci raptor Ha mangiato tutti gli arti Del veloci raptor Che erano nella gabbia Ecco Forse io non la metterei ancora Ma aspetterei un po' Prima di effettuare Il trasferimento All'interno di questa gabbia Quindi raga Allora adesso direi Andiamo a dormire Usciamo da qui Faccio dell'uscita Ah anche questi qua Guardate che fighi Questi qui che ho messo Sono delle spikes di legno Non fanno danno Sono solamente Per bellezza Ovviamente anche Per piazzare questi Un casino Non si possono mettere Un accanto all'altro Solo in diagonale A distanza di due blocchi Cioè un casino Veramente anche questi Però raga Secondo me fanno La loro sporca figura La loro porca figura Anzi Stessa cosa Questa Queste Queste cose qui Queste Questi Filos Questo filo spinato Ecco Messo Nelle Assi di legno Ok Matteo Non sa descrivere i blocchi Ma ok Allora Usciamo da questa gabbia Andiamo a dormire C'è il doppio pulsantino Uno e due Facci uscire Facci uscire Grazie Saliamo nella nostra Bellissima macchina Nella nostra jeep Della Jurassicraft E andiamo Subito 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 A dormire Nel nostro appartamento Fatto molto molto male Perfetto raga Stiamo andando a parcheggiare Parcheggiamo dritti per dritti Poi insomma usciremo dopo A marcia indietro Non fa niente Lasciamo la macchina qui All'interno Nel nostro bel cancello E andiamo subito 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 A spawnare Le nostre uova Di veloci raptor Raga Siamo pronti Per questa nuova gabbia Per questa nuova avventura Speriamo che Non scavalchi Ecco Ho cercato di mettere gli oggetti Il più lontano possibili Quelli alti Qui dove c'è Appunto la caverna Dove possono saltare Ho cercato di fare il recinto Più alto A meno che non mi vengono a saltare Da questa zona qua Pino all'aggiù Che potrebbe essere Una cosa possibile Ma raga Veramente Stiamo parlando Dell'assurdo Ecco Siamo pronti Per fare Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette E otto Velociraptor Raga Abbiamo Questo recinto Che è qualcosa di fantastico Dobbiamo subito Andare adesso a mettere Anzi Entro subito a mettere Off camera Un po' di cibo All'interno di questi Di questi feeder Perché altrimenti Moriranno subito di fame Quindi raga Per questo video è tutto Spero veramente vi sia piaciuta Questa nuova gabbia Lasciatemi un commento Un parere qui sotto Un commentino Un bel messaggino Che io ovviamente leggerò Iscrivetevi se ancora Non foste iscritti Per non perdervi I prossimi video Dal Jurassicraft E Per non perdervi Ovviamente anche I video delle altre serie State pronti Che tra poco Uscirà online La maglietta Della Jurassicraft Non è per un periodo Veramente limitato Però Tra un po' Uscirà Una maglietta Molto molto Figa e simpatica Della Jurassicraft Forse prossima settimana Ecco Se fate i bravi Quindi raga Per questo video Dove vi raccomando Lasciate tantissimi piaci Un commento 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 Grazie a tutti.